Salve, mi chiamo Lucia, Lucia Iacca, sono membro del Comitato Organico Aggiuntivo. Dunque, dopo diversi anni in graduatoria, nel 2020, in piena pandemia, sono stata chiamata dalla scuola per un contratto di ben otto mesi. Nonostante la mia titubanza iniziale, perché io comunque il lavoro ce l'avevo, un lavoro nel privato, ma a tempo indeterminato, che comunque mi permetteva, che non mi gratificava al 100%, ma che almeno in parte mi permetteva di sostenere la famiglia, i miei figli studenti universitari, ho comunque accettato. Non è stato facile, perché comunque per sei ore lavorative, il primo anno, sono stata fuori casa anche per dieci e più ore. Affrontavo metà viaggio per raggiungere il posto di lavoro, quindi la scuola con la macchina, il resto con i mezzi pubblici. Non è stato facile, anche perché inizialmente chi stava già nella scuola non ho mai ben capito il perché, non ha visto di buon occhio il nostro arrivo, anche se poi si sono resi conto del lavoro che svolgevamo e quindi hanno capito che per loro eravamo una manna dal cielo. E quindi in questo senso la situazione man mano è andata migliorando. Non è stato facile, perché oltre al nostro, a quello per cui eravamo stati chiamati, comunque abbiamo fatto di tutto e di più, abbiamo fatto l'apertura delle scuole, la chiusura delle scuole, i turni pomeridiani, oltre al turno della mattina anche spesso e volentieri dei turni nel pomeriggio per assenze dei colleghi, gli open day, gli open day di domenica, insomma non ci siamo tirati indietro in niente, anche perché ci rendevamo conto che comunque le richieste che ci venivano fatte, ci venivano fatte perché c'era la necessità, perché comunque altre risorse umane nella scuola servivano e servono tutt'oggi, perché c'è veramente una carenza di personale. Oggi a 52 anni io sono senza un lavoro e senza sussidio da settembre, per cui non posso più sostenere la famiglia e i miei figli. Oggi a 52 anni quel lavoro che ho lasciato non me lo ridà più nessuno, oggi a 52 anni sento di aver perso quasi la dignità perché un lavoro non lo svolgo più. Oggi nei miei confronti lo Stato e nei confronti dei 55.000 lavoratori che ha lasciato a casa sta commesso un'ingiustizia, sta commettendo un'ingiustizia perché non sta rispettando l'articolo 4 della Costituzione, il diritto al lavoro.